Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Sabato 6 luglio a Rimini si celebrerà il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi. La coppia si giurerà amore eterno in una cerimonia intima, circondata da pochi familiari e amici. Simona aveva scelto Paola Perego come testimone, ma ora è costretta a fare un passo indietro. Non c'è stato alcun litigio tra Simona e Paola, ma la Perego non potrà più svolgere il ruolo di testimone. Il motivo risiede nell'incidente che ha coinvolto Lucio Presta, schiacciato da un trattore di quasi 500 kilabri. Simona ha deciso giustamente di rinunciare alla presenza della sua amica per stare accanto al marito. Al momento Simona Ventura non ha rivelato il nome della nuova testimone di nozze. Forse la super Saimo spera ancora che Paola Perego riesca a trovare almeno 5 minuti per partecipare al matrimonio.